La polizia lo stava cercando da circa tre mesi, da quando era sfuggito alla cattura durante un'operazione che aveva portato all'arresto di altre 12 persone. Alla fine ha deciso di consegnarsi da solo alle forze dell'ordine, presentandosi spontaneamente presso il carcere di Trani. Si tratta del 29enne Bitontino Giuseppe Pastoressa, già condannato in via definitiva a una pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, con l'accusa di ricettazione aggravata in concorso. Il giovane, ritenuto dagli inquirenti elemento di spicco della criminalità organizzata locale, si era reso irreperibile dal gennaio scorso, quando gli agenti della squadra mobile di Bari avevano eseguito diversi ordini di carcerazione nei confronti di 12 persone ritenute responsabili di associazioni a delinquere finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti, spaccio, estorsione e detenzione illecita di armi da fuoco. I provvedimenti erano scaturiti dalle indagini condotte dalla Polizia di Stato nell'ambito dell'operazione denominata Big Ben e conclusasi nel giugno 2013 con 27 arresti in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Fra le persone finite in manette, secondo quanto documentato dagli inquirenti, molti esponenti del clan strisciuglio.